Ciao a tutti ragazzi, sono Blaise88 ed oggi c'è un video molto piccolo come video sarà come fare dei piccoli esperimenti se sapete alcuni esperimenti da proporre ditemeli io io penso di fare quasi tutti gli esperimenti che mi dite sotto i commenti ma oggi ve ne faccio vedere due o tre se potrò il primo sarà in un momento che ti do la piensa che mi sta venendo il freddo come ho detto ci vuole l'h o un accendino spero che si vede la fiamma no no funziona davvero pochissime volte ci provo l'ultima volta se no me lo vado a cambiare la lacca vado a cambiare la lacca ci vediamo subito mi dispiace ma questo esperimento non lo potrò fare perché non trovo la lacca si vede che questa è l'ultima ma un altro esperimento lo potrò fare no in verità è solo una cosa per sapere se siete a scuola usate il bianchino basta prendere una molletta oppure oppure ah prima di tutto proprio perché forse ve lo scriverete nei commenti questo non è un esperimento è solo una cosa se vi serve la scuola oppure proprio per cancellare un errore io ve lo dico se poi per voi non serve commentate allora prendete il bianchino vediamo se funziona funziona basta mettere questa molletta o una molletta qualsiasi io uso queste sono quelle di ferro penso che ce le avete a casa o vostro padre o vostro padre ce le avrà e le basta mettere così questo già premerà qua e non c'è bisogno che voi premete ma basta che togliete il tappo e fate così anche tenerla così senza proprio stringere il bianchino un'altra cosa che non vi ho potuto fare di vedere il primo esperimento ah e un'altra cosa non funziona solo con i bianchini ma anche con i glitter io ho questi molto maschili rosa se avete questi tipi vi faccio vedere ragazzi questi basterebbe mettere questo qua e funziona lo stesso con qualsiasi cosa poi poi ora vi prendo un'altra cosa che forse conoscerete tutti perché chi non l'ha fatto davvero lo faccia subito momento che vado a prendere gli ingredienti sono ritornato con gli ingredienti gli ingredienti che serviranno prima di tutto la tovaglia se no posso vaderli dall'ignate per aver spottato tutto e succederà questo a me allora mi sembra perché per fare questa cosa cautela scusate ho dimenticato il bicchiere perché ci sono Grazie. Allora, io ho preso il bicchierino piccolo perché non ne devo fare così tanto, è un colorante, il più che mi è capitato è il giallo. Prima di tutto mettete il bicarbonato, prima le gocce, poi mettete il bicarbonato e poi subito l'aceto. 3, 2, 1, vi dovrebbe formare sta... Cristo. Vi dico, è puzzolentissimo, oddio. Ne ho messa troppo forse. Mamma, se stai guardando questo video... Basta. E così mi prenderete uno schiappo sicuro. Non fate voi. Era un po' caduto il bicarbonato. Mi sembrava uno spreco. Oddio, sei appiccicato! Questa si può andare a buttare. Che schifo. Che schifo l'olore dell'aceto con il bicarbonato. In un momento che vi faccio vedere meglio. Cioè, sto schifo, che vi assicuro che non è cosa sembra, è bicarbonato colorante giallo. Un momento che è una marca. Faccio... Che bello fare i video che sei anche esperto. Vi faccio vedere anche la marca. Ogni colore. Ogni colore va bene. Io proseggiavo perché è il primo che mi capitò. E' questa. L'ho buttata nel ciasso. Un momento! Devo bloccare sta cosa! Dam, 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 dam. Mai nella vita! Allora, a 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